wow ragazzi bentornati oggi vedremo tutte le armi del set stereoportatile allora il set delle armi stereoportatile ovvero le armi musicali è uno tra virgolette degli ultimi set usciti su salva al mondo sebbene sia uscito comunque un anno fa e in questo video ci concentreremo sulle armi poi ne faremo anche un altro sugli eroi ma tutte le armi di questo set hanno comunque in comune una cosa ovvero quella che fanno ballare i nemici ebbene sì sebbene comunque l'anno scorso abbiamo visto un video specifico per ogni arma quest'anno comunque mi sembrava giusto fare un riepilogo comunque che comprendesse tutte le armi quindi spero che il video comunque non venga troppo lungo e spero comunque che vi piaccia detto ciò buona visione la prima è la r il ritmo battente fucile d'assalto stereoportatile un fucile d'assalto dall'impatto sopra la media che spara raffiche di due colpi a cadenza serrata e perfora i nemici percato con due danni critici un livello critico velocità di ricarica ed elemento energia questo r è molto molto particolare perché appunto sparerà queste onde sonore che faranno ballare i nemici in sostanza una cadenza di tiro comunque un po limitata se posso dirla mia tutto sommato comunque un'arma molto particolare in questo caso la sua ultima perk se elimini un nemico con quest'arma quel nemico e nemici vicini ballano per un breve tempo non ha effetto sui nemici che hanno ballato da poco il ballo non ha effetto neanche sui mostri della nebbia e i boss diciamo che comunque in tutto il set probabilmente il ritmo battente è quella che passa più inosservata anche se comunque ha molti aspetti positivi come tutto questo set ovvero quello che comunque fa ballare i nemici li stordisce di conseguenza fa droppare la bombola e bombaroli come tutte le armi di questo set e riesce a avere anche un potenziale nella media diciamo niente di eccezionale però comunque utile in moltissime situazioni lati negativi di quest'arma allora il fatto che comunque spara raffiche di due colpi quindi oltre a ciò comunque una cadenza di tiro limitata e anche se comunque andassimo a bussare la cadenza di tiro ci ritroviamo comunque con un'arma che ha soltanto 24 colpi nel caricatore quindi un'arma molto carina molto utile in molte situazioni ma niente di eccezionale quindi io direi di passare alla prossima il woofer fucile pesante stereoportatile spara scariche soniche ai nemici in un cono a medio raggio infliggendo danni e respingendoli mantiene un buon equilibrio tra cadenza di tiro capienza del caricatore e tempi di ricarica sacrificando parte del danno per un ottimo impatto questo pompa lo paragonerei molto al dragone comunque sia impatto e danni e sia comunque come spara caricatore moltissime cose sono veramente identiche a parte il fatto che comunque il woofer fa ballare i nemici essendo comunque del set da paura di conseguenza un'attacchetta in più per il woofer comunque anch'esso percato con un doppio danno critico un livello critico velocità di ricarica ed elemento energia la sua ultima perk in questo caso è quella se stordisce o rispinge un nemico con quest'arma quel nemico e nemici vicini ballano per un breve tempo non effetto sui nemici che hanno ballato da poco bla 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 ok cambia solamente che rispetto al ritmo battente questa volta al posto che le uccisioni dovremmo solamente respingere i nemici molto più semplice con un fucile pesante che ha tanto impatto no diciamo danni ok la rosa del proiettile molto ampia ciò vi darà modo comunque di colpire tantissimi zombie davanti a voi ecco il lato negativo comunque di quest'arma se posso permettermi di dirlo forse comunque il caricatore è poco capiente è vero che non spamma tantissimo ma comunque su un'arma del genere si sentono molto i pochi colpi d'altro canto comunque quando entra critico e quando entra colpo comunque diciamo che è dotata di un vero potenziale seppur comunque la descrizione dica che preferisce l'impatto al danno l'impatto è veramente elevato e ve lo assicuro anche il danno possiamo dire che è ok niente di speciale ma ok la terza arma di questo set che vedremo in questo video è il crescendo purtroppo sul crescendo non è possibile fare un percaggio con un doppio danno critico quindi di conseguenza una perca di danno una di velocità di ricarica elemento energia livello critico e danni critici se stordisci o respingi un nemico con quest'arma quel nemico e nemici vicini ballano per un breve tempo il crescendo comunque è un fucile di precisione stereoportatile un fucile di precisione perforante che puoi caricare per infliggere danni in più ebbene sì ragazzi il crescendo ha due tipi di proiettili ovvero il proiettile singolo e normale come tutti i cecchini che consuma una munizione è un altro tipo di proiettile che riesce a caricare tutto il caricatore in un singolo colpo se ve lo state chiedendo no se andate a mettere la dimensione del caricatore purtroppo il colpo caricato non aumenterà di conseguenza il danno non aumenterà neanche le munizioni in più sprecate il vantaggio di utilizzarlo caricato è quello appunto di colpire grossi versagli quali smasher occhi belli taker no caricherà tutti e cinque i colpi in un singolo colpo e scaricherà tutto il danno di essi in un singolo colpo ma abbiamo un grosso ma ovviamente può avere lati positivi un'opzione del genere ma di conseguenza molti lati negativi immaginate di tener caricato un colpo intero quindi sprecare cinque colpi e comunque un bel po di tempo per tenerlo caricato e mancare alla grande il vostro bersaglio niente di più frustrante raga ve lo assicuro quindi può essere un fatto positivo ma può essere anche un fatto molto negativo se non abbiamo abbastanza mira no dobbiamo avere molta pazienza per ricaricarlo per magari far ricaricare tutte e cinque colpi oppure utilizzarlo colpo per colpo e avere un danno leggermente più stabile comunque non sprecare troppi colpi e anche se comunque mancherete un bersaglio potrete di conseguenza sparare al secondo no se invece vi state chiedendo se anche i difensori possono tener caricato questo fucile di precisione sì anche i difensori possono farlo e tener caricato il colpo per infliggere più danni ecco il crescendo è anch'essa un'arma molto particolare da non farsi scappare sicuramente da ottenere e sicuramente da provare vi accorgerete comunque di aver raggiunto la carica massima tenendo caricato perché di sottofondo sentirete questa canzone la prossima invece è il mix scatenato pistola stereoportatile spara un paio di scariche soniche che trafiggono i nemici offre un caricatore capiente e un rinculo ridotto mix scatenato ti metterà ritmo nel sangue anche questa pistola comunque percata con un doppio danno critico un livello critico perk di danno ed elemento energia perché comunque ha una dimensione caricatore di 30 colpi sono sufficienti ha un tempo di ricarica di 1,4 secondi quindi potete anche potenziare qualcosa io in questo caso non mi sentivo di potenziare nulla mi andava bene la velocità di ricarica mi vanno bene i colpi va bene un po tutto diciamoci la verità è dotata di un ottimo potenziale come tutte le armi di questo set ovviamente fa ballare trapassa i nemici di conseguenza anche essa molto molto utile se in più comunque abbinata a una buona build che infliggerà molto danno sarà molto molto favorevole mi ricordo che la utilizzavo per esempio per ridurre la cooldown diciamo di destra e mancino questa pistola in quanto comunque riuscivi a uccidere molti zombie in un singolo momento però c'è anche da dire che comunque ci sono pistole molto più forti per fare molte più uccisioni in un singolo momento no comunque nel suo piccolo è un'ottima pistola anche essa assolutamente da non farsi scappare e diciamo lati negativi di quest'arma è il fatto che comunque il colpo ci mette un tot di tempo arrivare al bersaglio molte volte magari state sparando a uno zombie lo mancherete praticamente sempre insomma le prime volte bisogna un po memorizzare i timing quelli che sono comunque la velocità del colpo il tempo che comunque impiega arrivare allo zombie davanti a voi eccetera eccetera ma dopo un po vi farete l'abitudine c'è da dire comunque che è molto buono che la maggior parte delle armi di questo set utilizzano le munizioni leggere quindi le nostre celle d'energia le nostre batterie sono al sicuro raga tranquilli c'è soltanto forse un'arma che utilizza le celle d'energia che vedremo dopo comunque questo era il mix scatenato è il turno dello shot staccato il secondo pompa di questo set fucile pesante stereo portatile fucile pesante automatico perforante con notevole capienza impatto e cadenza di tiro percato con un livello critico velocità di ricarica elemento energia e doppio danno critico la sua ultima perk ma dovrebbe essere identica per tutti e lo shot staccato sappiamo che sarà disponibile nel negozio attenzione se stordisce e respinge un nemico con quest'arma quel nemico i nemici vicini ballano per un breve tempo e il resto è uguale alle altre armi quindi lo shot staccato fa ballare i nemici su impatto molto buono perché comunque è un pompa con abbastanza impatto molto più spammevole del precedente attenzione alle vostre munizioni utilizza le munizioni del pompa ha un suono molto divertente una capienza dei caricatori di 15 colpi un tempo di ricarica di 1,5 secondi però questo con una perk di velocità di ricarica il che rende questo shot staccato molto versatile in moltissime situazioni innanzitutto è molto spammevole infatti come dicevo prima potrete spammare persino 4 colpi al secondo molti di più se poi combinati comunque a wafer e grido di guerra molto potenziale in quest'arma assolutamente e che dire lo shot staccato è sicuramente un'arma che non si trova nei lama perché appunto uscirà nel negozio quindi è un'arma assolutamente da non farsi scappare utilizzarla vi assicuro che è divertentissimo ragazzi praticamente vi difenderete da qualsiasi zombie in quanto comunque oltre a far male comunque li farete anche ballare manderete giù qualsiasi bersaglio gruppi di zombie smasher occhi belli ecco ovviamente essendo un pompa è un problema sui nemici sulla media a lunga distanza non peggio comunque del precedente pompa ovvero il woofer è un'arma molto particolare raga a me personalmente mi piace un sacco la utilizzo molto molto spesso in molti miei video comunque randomicamente sicuramente avrete già avuto l'occasione di vederla perché comunque è un'arma che apprezzo particolarmente ovviamente comunque un pompa cioè ai suoi limiti non è che potete mettervi da una parte all'altra della mappa sparare uno zombie perché appunto lo sarà inutile d'altro canto comunque essendo che spamma veramente tanto dovete fare veramente attenzione alle munizioni alla durevolezza e basta tutto qua tutto sommato è un'arma molto semplice da comprendere non è difficile il suo utilizzo è adatta chiunque ma ovviamente non perfetta per tutte le circostanze la prossima è il deciblaster e attenzione perché qui abbiamo veramente una chicca arma esplosiva stereoportatile spara una raffica sonora che perfora i nemici e rimbalza fino a cinque volte infliggendo danni in un'area ad ogni rimbalzo capirete bene già dalla descrizione di quanto quest'arma sia potente percata comunque con un livello critico velocità di ricarica elemento energia danni critici e danni critici si presenta comunque con l'ultima perk uguale per tutti se elimini un nemico con quest'arma quel nemico e nemici vicini ballano per un breve tempo quindi sì nonostante sia lanciarazzi e sia veramente forte farà ballare anche i nemici quindi droppare la bombola anche bombaroli comunque ha un colpo che perfora i nemici come lanciabulling e come lanciabulling dotato veramente di un potenziale inimmaginabile ecco il suo utilizzo è molto versatile in quanto comunque utilizzato in mappa aperta andrà a perdere il suo vero potenziale cioè magari un colpo su un bersaglio grosso rimbalzerà una o ben che vada due volte quindi privandosi del suo potenziale magari dei cinque rimbalzi che sono più facili da ottenere in un luogo chiuso e che dire ragazzi cinque rimbalzi di cui tre critici è sicuramente una cifra esorbitante se sparate invece così a random ad uno zombie non entrerà manco critico non farete praticamente nulla ecco veramente utilissimo utilissimo utilizzato nei tunnel colpirete tutti gli zombie trapassandoli poi il colpo ritornerà magari indietro quindi tra passerete di conseguenza due volte se il tunnel abbastanza stretto 34 addirittura cinque volte tutti i zombie che prendete praticamente infliggerete un sacco di danno raga tutti gli zombie comunque nella traiettoria del colpo verranno colpiti e danneggiati da questo lanciarazzi e anche questa è sicuramente un'arma da non farsi scappare perché raga è dotata di un potenziale enorme fa droppare le bombole quindi è anche utilissima rimbalza nelle pareti quindi è molto molto versatile quindi molto forte in molte situazioni oppure molto debole in altre situazioni dipende un po anche come la utilizzate adesso attenzione che si passa alle armi da mischia sono solamente tre ma tutte tre vi assicuro che sono uno spettacolo allora la prima giù il microfono clava media stereo portatile un microfono massiccio con eccellente potenziale di respinta impulso di feedback cioè l'attacco secondario batte a terra la testa del microfono per travolgere nemici davanti a te con un impulso sonico quindi un'ottima arma da utilizzare in combo con attacco primario attacco secondario vi assicuro che comunque con la giusta build dotata di un bel potenziale molto molto utile perché comunque oltre ad essere abbastanza forte riuscirete a far ballare nemici quindi a controllare orde di zombie l'attacco secondario beh ovviamente ci sono armi con attacchi secondari molto più forti ma non è niente male anche l'attacco secondario è in grado di far ballare nemici percato con un doppio danno critico livello critico velocità di attacco ed elemento energia la sua ultima perk è quella se stordisci o rispingi il nemico quel nemico e nemici vicini ballano per un breve tempo comunque giù il microfono tra tutte e tre le armi da mischia è sicuramente la peggiore delle tre e non per dire che faccia schifo perché assolutamente non fa schifo ma le altre due veramente la surglassano di gran lunga magari va anche a gusti quindi magari probabilmente sto anche sbagliando a dirvi ciò personalmente comunque giù il microfono non mi dispiace nel suo piccolo però ritengo che le altre due siano di un gradino superiore ecco tutto qua comunque ha un buon potenziale di danno un buon danno critico ha una buona velocità d'attacco fa ballare nemici perde un po sull'attacco secondario rispetto alle altre armi ma non è niente male cioè riuscirete comunque a colpire tanti zombie davanti a voi attenzione non dietro e comunque non l'ho ancora detto ma fa parte della classe dei bastoni quindi potenziabile con perk che vanno ad aumentare il danno dei bastoni adesso è il turno della spacca timpani e qui è una bella sfida allora la spacca timpani è in assoluto una delle armi da mischia al top del top e non parlo solo di questo set in generale è una delle mie preferite allora è una lancia stereoportatile una lancia che infligge danni gravi con attacchi in affondo a lunga distanza l'attacco secondario invece questa volta il principale dell'arma impulso sonico colpisce il terreno con la lancia convogliando i danni e respingendo i nemici circostanti e allo stesso tempo conferisce un bonus danni temporaneo a te e agli alleati il bonus è accumulabile fino a quattro volte allora praticamente questa spacca timpani o meglio questa lancia ha un attacco secondario che è molto particolare molto utile molto forte non consuma durevolezza attenzione solo l'attacco secondario ciò vuol dire che utilizzata normalmente con l'attacco primario si ed è possibile fare molte cose con esso innanzitutto c'è molta gente che lo utilizza per farmare quindi con una perk di efficienza energetica attacco pesante nella build è l'altra perk che comunque aumenta l'efficienza energetica attacco pesante delle lance e praticamente si mettono al centro comunque di dove ci sono un po di materiali utilizzando l'attacco secondario più volte possibile è possibile farmare e lo vedrete anche voi dal video in molte situazioni però la vera arma utilizzata contro gli zombie è veramente veramente fenomenale più zombie ci sono più zombie vi vengono addosso più potete contare su immortalità su danni e su appunto invincibilità e che dire continuerete a infliggere danni con l'attacco secondario più ne arrivano più recuperate energia e comunque poi va in base alla vostra build con arlinizia riprendete la vita piuttosto che poi con ken intergalattico lo shield oppure col vantaggio squadra che si utilizza di solito su saranti coccole si riprenderà anche lì lo shield insomma è molto modificabile sia la build sia il modo in cui utilizzare questa lancia ma nel complesso comunque l'attacco secondario è sempre lo stesso molto forte molto promettente molto utile in grado comunque sì di far ballare ma anche di uccidere questi nemici qualsiasi zombie vi puscia se riuscirete comunque a rompere il suo scudo d'impatto quindi a stordirlo o a farlo ballare sarà veramente il top perché comunque se arriva quello col frigorifero in mano in molte situazioni se non riuscite a farlo ballare beh vi interromperà il vostro attacco zombie api così non sono un problema diciamo se avete una buona build gli smasher anche ad essi dovrete rompere il loro scudo d'impatto per potergli stordire ma poi comunque anche se gli zombie vi interrompono l'attacco secondario potete contare sull'attacco primario che anche esso è molto molto forte quindi finire quello che avete cominciato con l'attacco secondario e continuare a uccidere lo smasher con l'attacco primario certo è molto più utile con i zombie piccoletti e con tanti zombie non lo metto in dubbio ma tutti voi vi troverete almeno una volta nella vita con uno smasher davanti e questa lancia in mano ecco la spaccatimpani di tutto il set è in assoluto quella che preferisco di più sì forse ho detto la stessa cosa del deci blaster non me lo ricordo però nel dubbio sono comunque tutte e due armi veramente fantastiche eccoci arrivati all'ultima di questo set e non per importanza attenzione anzi tutt'altro direi attrezzo stereoportatile martello con buona velocità d'attacco e forza d'impatto eccellente il suo attacco secondario anche meglio chiamato casca il mondo colpisce il terreno creando una serie di impulsi sonici che infliggono danni e respingono i nemici è un'arma assolutamente famosissima l'attacco secondario come la spaccatimpani non consuma durevolezza percato con un doppio danno critico un livello critico elemento energia e velocità d'attacco attenzione che adesso lo state vedendo ad energia ma in passato per affrontare il re mitico era in fisico ovviamente vi consiglio di fare le armi in fisico per effettuare più danni al corno o ai cristalli adesso chiaramente si utilizza la mano l'attrezzo mitico quindi di conseguenza lo schianto surround torna ad essere utilizzato sugli zombie quindi danno critico livello critico elemento energia veloci d'attacco e danni critici la sua ultima perk se stordisci o rispingi un nemico con quest'arma quel nemico e nemici vicini ballano per un breve tempo comunque ha un attacco secondario di degna nota utilizzato contro gli zombie sarà veramente il top del top direi insieme alla spaccatimpani formano veramente due delle armi più divertenti di questo gioco ve lo assicuro ovviamente si fa ballare nemici stordisce i mostri della nebbia è la miglior arma da utilizzare contro il corno del re mitico dopo la mano e dopo la spada mitica l'attacco secondario spammabile è una delle cose oltre che più divertenti più utili di questo gioco e anche lo schianto surround è una di quelle armi assolutamente da avere sempre nel nostro inventario ovvero è scontato che io vi consigli di prendere il progetto quando uscirà nel negozio oggetti non fatevelo scappare mi raccomando perché in assoluto un'arma di degna nota e questo era tutto per le armi del set stereo portatile mi raccomando ragazzi vi ricordo solamente di lasciare un bel pollicione in su metto che ci ho messo un sacco a fare questo video è comunque volevo dirvi che trovate anche i video singoli su tutte le armi quindi se volete un approfondimento su tutte le armi guardate in descrizione perché vi metterò i vari link spero che sia stato di vostro gradimento questo video ragazzi spero comunque anche di avervi chiarito le idee e per oggi è tutto io vi ricordo che potete supportare la crescita di questo canale inserendo il codice kino tv nell'item shop di fortnite io ragazzi vi saluto qui ci vediamo comunque nei prossimi giorni bella bella ciao 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 ciao